Quali sono le produzioni che presentate? Abbiamo presentato tutta la nostra gamma, il nostro core business, il nostro vino principale, la nostra etichetta che facciamo di più è il Gavi San Pietro, il nostro piccolo cru, quindi sempre Gavi, sempre 100% cortese ma da un'unica vigna per la quale vinifichiamo il nome, il mandorano prende proprio il nome da questa vigna, i due nostri rossi, il nero e il bella vita che sono entrambi due ovaggi, la semplice differenza che il nero fa sull'acciaio, il bella vita fa almeno 15 mesi di legno e poi le nostre due bollicine, il brut, chardonnay e cortese e il rosato 100% albana rossa. Entrambi in vento di Charmaluigi e entrambi ci hanno dato delle belle soddisfazioni durante questi tre giorni di fine.